75.000 pagine di quotidiani sul pavimento di Piazza Duca d'Aosta per calpestarle, un messaggio a carattere cubitale sarà vero e l'iniziativa del collettivo artistico PixLS per la giornata mondiale della libertà di stampa che si celebra il 3 maggio, una piazza simbolica per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di stretta attualità. L'opera resterà calpestabile fino al 7 maggio nell'atrio della stazione centrale e non è una provocazione, ha dichiarato Blue PixLS il portavoce del collettivo, piuttosto è un invito a riflettere su quello che leggiamo e su come le informazioni ci raggiungono in modo sempre più pervasivo. L'installazione è stata realizzata grazie al supporto di grandi stazioni retail che ha messo a disposizione di questa iniziativa una delle stazioni più iconiche d'Italia, la stazione centrale di Milano. In questi giorni dunque la centrale sarà a porta della città ma anche a momento di riflessione e coscienza per quanti attraverseranno i suoi spazi. Finita l'esposizione, l'installazione sarà tagliata per ricavarne delle tele che saranno arricchite da messaggi e riflessioni sul ruolo del giornalismo e della libertà di stampa, a ferma di voci autorevoli come Massimo Giannini, direttore della stampa, e il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi.